Il Covid ha solo peggiorato la situazione. Nel 2020 è aumentata la povertà sanitaria. Che cosa significa? Che tantissime famiglie italiane non hanno soldi neanche per acquistare i farmaci di cui hanno bisogno. 434.000 persone nel nostro paese si sono trovate e si trovano in questa situazione. Gli enti che li aiutano hanno bisogno soprattutto di farmaci per il tratto alimentare, per il sistema nervoso, per le malattie metaboliche, per il sistema muscolo-scheletrico e per l'apparato respiratorio. Servono poi presidi medici ed integratori alimentari. È quanto emerge dall'osservatorio sulla povertà sanitaria, l'organo di ricerca del Banco Farmaceutico. Le difficoltà non riguardano solo gli indigenti però, perché 7.800.000 persone non povere, 3.500.000 di famiglie, nel corso del 2019 hanno dovuto sospendere o limitare almeno una volta la spesa necessaria per visite mediche o accertamenti periodici. E anche l'assistenza a queste persone, soprattutto le più indigenti, con il Covid è stata più difficile. Nella nostra provincia la realtà non è diversa da quella nazionale. Noi abbiamo 10 associazioni che promuovono questo tipo di assistenza sanitaria, cioè di dare farmaci da banco per lo più agli indigenti. Tutte realtà che nel corso degli anni si sono prodigate per dare questo tipo di assistenza. Ma a causa del Covid tutte queste realtà hanno chiuso, ma ancora 4 realtà non hanno riaperto, per motivi legati ovviamente ai locali, ma anche alle disponibilità da parte dei volontari. Il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare sole le realtà territoriali e effettuare anche una donazione al Banco Farmaceutico sul sito internet oppure partecipare nel prossimo febbraio alla nuova giornata di raccolta del farmaco in tante farmacie della nostra provincia.